Salve ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzio e come ben vedete sto guardando la partita del cuore, quella che sto giocando anche io qui con voi logicamente, come loro in maniera diciamo mesta e coraggiosa si prodigano nel mondo del calcio per una battaglia dedicata ai progetti umanitari, dedicati quindi a quello che è lo Juventus Stadium e quindi sono diciamo molto scarsi, ma logicamente sono anche molto intraprendenti perché è una sfida con se stessi nel cercare con il pallone di appagarsi e di dare un risultato, di fare spettacolo, naturalmente spinti dalla loro notorietà visiva dal fatto che sono dei personaggi, io ho il mio grande ospite Jason Campbell, andatelo a vedere sui miei video che logicamente oggi non ha la sua bala laica classica, chi si porta sempre in giro alla Bob Dylan ma la sciarpa della partita del cuore, anche qui con voi noi aiuteremo la partita del cuore perché oggi la stiamo ricontinuando a guardare su YouTube, alla facciaccia di chi c'ha la patria arrivederci ragazzi, sempre su Opinione di Luzio, tenetevi sempre a letto, dai basta, un minuto, finito vedi così, in cabaret come c'è